Il rapimento del primo ministro Ora che la guerra e i problemi della guerra appartengono al passato, penso di potermi arrischiare senza timore, a rivelare al mondo la parte che il mio amico Poirot ha avuto in un momento di crisi nazionale. Il segreto è stato ben protetto. Non una parola è arrivata alla stampa, ma ora che l'esigenza di segretezza è passata, ritengo giusto che l'Inghilterra venga a conoscenza del suo debito verso il mio strano piccolo amico, il cui meraviglioso cervello ha tanto abilmente evitato una grande catastrofe. Una sera dopo cena, non darò i particolari sulla data, basti dire che era il periodo in cui trattare la pace era il grido pappagallesco dei nemici dell'Inghilterra. Il mio amico e io ce ne stavamo seduti nel suo appartamento. Dopo che ero stato congedato dall'esercito per invalidità, mi era stato affidato un lavoro di reclutamento. Ed era diventata mia abitudine passare la sera dopo cena da Poirot e chiacchierare con lui dei casi interessanti che gli capitava di avere tra le mani. Stavo cercando di parlare con lui della notizia sensazionale del giorno, niente meno che il tentato assassinio del signor David McAdam, primo ministro d'Inghilterra. Il resoconto sui giornali era stato manifestamente censurato con molta cura. Non si davano particolari, tranne il fatto che il primo ministro se l'era cavata miracolosamente perché il proiettile gli aveva solo graffiato una guancia. Era mia opinione che un fatto così oltraggioso si fosse potuto verificare perché la nostra polizia era stata vergognosamente disattenta. Potevo benissimo capire che gli agenti tedeschi in Inghilterra dovevano essere stati disposti a rischiare molto per compiere una simile impresa. Mc il combattivo, come il suo stesso partito lo aveva soprannominato, si era battuto strenuamente e inequivocabilmente contro l'influenza pacifista che si stava diffondendo. McAdam, più che un primo ministro d'Inghilterra, era l'Inghilterra e toglierlo di mezzo sarebbe stato un colpo schiacciante e paralizzante per la nazione. Poirot era intento a pulire un avito grigio con una piccola spugna. Non c'è mai stato un dendico Merkiel Poirot. L'ordine e la polizia erano la sua passione. In quel momento, con l'odore di benzina che riempiva l'aria, era del tutto incapace di riservarmi la sua totale attenzione. Tra un minutino sono da voi, amico mio. Ho praticamente finito. Questa macchia di grasso non va bene. La tolgo così. E agitò la spugna. Sorrisi mentre mi accendevo un'altra sigaretta. C'è qualcosa di interessante? Chiesi dopo uno o due minuti. Sto aiutando una cameriera a ore a cercare il suo marito. Un affare difficile, che richiede tatto. Perché ho l'impressione che quando lo ritroveremo, lui non sarà soddisfatto. Che ne dite? Da parte mia, io simpatizzo per lui. È stato molto bravo a scomparire. Risi. Finalmente la macchia di grasso se n'è andata. Sono a vostra disposizione. Mi stavo chiedendo che cosa pensate del tentativo di assassinare Mekaddam. Enfantillage, rispose subito Poirot. Non si può prendere sul serio. Sparare con una carabina? Non riesce mai. È un'arma antiquata. Questa volta, invece, ci sono quasi riusciti, gli rammentai io. Poirot scosse il capo spazientito. Stava per rispondermi quando la padrona di casa cacciò la testa dentro la stanza e lo informò che due signori volevano vederlo. Non vogliono dire come si chiamano, signore, ma affermano che è molto importante. Fatelli salire, disse Poirot, piegando con cura i pantaloni grigi. I due visitatori furono fatti entrare pochi minuti dopo e il mio cuore fece un balzo alla vista del primo. Lo riconobbi. Era Lord Esther, leader della Camera dei Comuni, mentre il suo compagno era Bernard Doge, membro del Ministero della Guerra e, da quanto sapevo, amico intimo del Primo Ministro. «Messie Poirot», chiese Lord Esther. Il mio amico chinò la testa. Il grande uomo mi guardò ed esitò. Si tratta di una conversazione privata. «Potete parlare liberamente davanti al Capitano Hastings», disse il mio amico facendomi cenno di restare. «Non ha tutte le virtù, no, ma garantisco la sua discrezione». Lord Esther continuava a esitare, ma Doge si intromise bruscamente. «Oh, andiamo! Non meniamo il camperlaia! Prevedo che tra non molto tutta l'Inghilterra saprà in che pasticcio siamo. Il fattore tempo è essenziale!» «Vi prego di accomodarvi, monsieur», disse Poirot compitamente. «Volete sedervi sulla poltrona grande, mi lord?» Lord Esther ebbe un lieve sobbalzo. «Mi conoscete?» Poirot sorrise. «Certo, leggo i giornali e vedo le fotografie, come potrei non conoscervi. Monsieur Poirot, sono venuto per consultarvi in merito a un problema di importanza vitale. Devo chiedervi l'assoluta segretezza. Avete la parola di Hercule Poirot, non posso dire altro», rispose il mio amico pomposamente. «Riguarda il primo ministro, siamo in guai seri. Siamo con le spalle al muro», interloqui Doge. «La ferita è grave, allora?» chiesi io. «Quale ferita?» «La ferita del proiettile». «Oh, quella!» esclamò sprezzante Doge. «Quella è ormai storia vecchia». «Come dice il mio collega», proseguì Lord Esther, «quella faccenda è chiusa. Per fortuna l'attentato è fallito. Vorrei poter dire altrettanto per il secondo. Ce n'è stato un secondo, dunque?» «Sì, anche se non dello stesso genere. Monsieur Poirot, il primo ministro, è scomparso». «Come?» «È stato rapito». «Impossibile!» esclamai io, sbalordito. Poirot mi fulminò con un'occhiata e capì che mi ordinava di tenere la bocca chiusa. «Purtroppo, per quanto possa apparire impossibile, è fin troppo vero», continuò sua signoria. Poirot guardò Doge. «Avete detto, Aurora, monsieur, che il tempo è un fattore essenziale. Che cosa intendevate?» I due uomini si scambiarono un'occhiata, quindi Lord Esther disse, «Monsieur Poirot, avete sentito parlare dell'imminente conferenza alleata?» «Il mio amico a lui». Per ovvie ragioni, non sono stati forniti particolari in merito al luogo e alla data in cui si terrà. Ma, anche se i giornali non ne hanno parlato, la data ovviamente è risaputa negli ambienti diplomatici. La conferenza si terrà domani, giovedì sera, a Versailles. Ora vi renderete conto dell'estrema gravità della situazione. Non posso nascondervi che la presenza del primo ministro alla conferenza è vitale. La propaganda pacifista iniziata è proseguita dagli agenti tedeschi che si trovano in mezzo a noi è stata molto attiva. È opinione universale che la forte personalità del primo ministro darà una svolta decisiva alla conferenza. La sua assenza potrebbe avere conseguenze gravissime, forse anche una pace prematura e disastrosa. E noi non abbiamo nessun altro da mandare in sua vece. Lui solo può rappresentare l'Inghilterra. Il volto di Poirot era diventato molto serio. Quindi voi considerate il rapimento del primo ministro come un tentativo diretto di impedire che partecipi alla conferenza? Lo penso senz'altro. In effetti stava già partendo per la Francia. E a che ora si terrà la conferenza? Alle nove di domani sera Poirot estrasse dalla tasca un gigantesco orologio. Ora sono le nove meno un quarto. Ventiquattro ore disse Doge con aria pensosa e un quarto lo corresse Poirot. Non dimenticate il quarto monsieur potrebbe essere utile. Ora quanto ai particolari il rapimento è avvenuto in Francia o in Inghilterra. In Francia il signor McCaddam ha attraversato il canale stamattina diretto in Francia. Questa sera sarebbe stato ospite del comandante in capo e l'indomani avrebbe dovuto proseguire per Parigi. Ha attraversato il canale a bordo di un calciator pediniere. A Boulogne è stato accolto da un headcom del comandante in capo con una macchina mandata dal quartier generale. Ebbene sono partiti da Boulogne ma non sono mai arrivati. Come? Monsieur Poirot si trattava di una macchina fasulla e di un headcom fasullo. La vera macchina è stata trovata in una via laterale con l'autista e l'headcom imbavagliati e legati saldamente. E quella fasulla non se ne sa più niente. Poirot fece un gesto spazientito incredibile certo non potrà passare inosservata ancora a lungo. Così pensavamo sembrava semplicemente una questione di accurata ricerca. Quella parte della Francia è sotto il controllo dei militari ed eravamo persuasi che la macchina non sarebbe fuggita a lungo. La polizia francese i nostri uomini di Scotland Yard e i militari stanno facendo ricerche frenetiche. Come dite voi è incredibile ma nulla è stato scoperto finora. In quel momento qualcuno bussò alla porta e un giovane funzionario entrò con una busta sigillata che porse a Lord Esther. È arrivata ora dalla Francia signore e l'ho portata qui come voi avete richiesto. Il ministro strappò con impazienza la busta e proruppe in un'esclamazione mentre il funzionario lasciava la stanza. Finalmente notizie. Questo telegramma è stato decifrato poco fa. Hanno trovato la seconda macchina e anche il segretario Daniels cloroformizzato imbavagliato e legato in una fattoria abbandonata vicino a C. Non ricorda nulla tranne che gli è stato premuto qualcosa sulla bocca e sul naso da qualcuno che gli è arrivato alle spalle e che lui ha tentato in vano di liberarsi. La polizia è convinta che la sua dichiarazione corrisponda alla realtà. Non hanno trovato altro? No. Non il cadavere del primo ministro allora c'è speranza ma è strano come mai dopo aver cercato di sparargli addosso stamattina ora si danno tanta pena per tenerlo in vita? Doge scosse la testa una cosa è assolutamente certa sono decisi a impedire a tutti i costi che partecipi alla conferenza se è umanamente possibile il primo ministro vi parteciperà Dio non voglia che sia troppo tardi e ora monsieur raccontatemi ogni cosa dall'inizio devo anche sapere tutto sulla faccenda dell'attentato ieri sera il primo ministro accompagnato da uno dei suoi segretari il capitano Daniels lo stesso che l'ha accompagnato in Francia sì come stavo dicendo sono andati in macchina a Windsor dove era stata accordata udienza al primo ministro stamattina di buon'ora sono tornati in città e il tentato omicidio ha avuto luogo durante il tragitto un momento per favore chi è questo capitano Daniels avete il suo dossier lord Esther sorrise immaginavo che lo avreste chiesto non sappiamo molto di lui non appartiene a una famiglia conosciuta ha prestato servizio nell'esercito inglese e come segretario è molto capace dato che conosce benissimo tante lingue credo che ne parli sette e per questa ragione che il primo ministro ha scelto lui come suo accompagnatore in Francia apparenti in Inghilterra due zie una certa signora Everard che vive Hampstead e una certa signorina Daniels che vive vicino ad Ascot Ascot è vicino a Winstor vero? questo particolare non è stato trascurato ma non ha condotto a nulla dunque ritenete il capitano Daniels al di sopra di ogni sospetto una nota di amarezza velò la voce di lord Esther quando rispose no monsieur Poirot di questi tempi esiterei prima di dichiarare chiunque al di sopra di ogni sospetto très bien ora penso milord che il primo ministro fosse ovviamente protetto da un'attenta scorta di polizia il che dovrebbe rendere impossibile qualunque aggressione vero? lord Esther chino il capo esatto la macchina del primo ministro era seguita da vicino da un'altra automobile che trasportava alcuni agenti in borghese il signor McAdam non sapeva nulla di queste precauzioni è un uomo impavido e tenderebbe a farne a meno ma naturalmente la polizia provvede comunque in effetti l'autista del primo ministro Omarfi è un agente del CID Omarfi un nome irlandese vero? si è irlandese di quale parte dell'irlanda? county clare credo tien ma continuatemi lord il premier è partito per londra la macchina era una berlina chiusa lui e il capitano Daniels sedevano all'interno e la seconda automobile li seguiva come al solito ma sfortunatamente per ragioni sconosciute la macchina del primo ministro ha deviato dalla strada principale in un punto in cui c'è una curva? si ma come fate a saperlo? oh se vi don continuate per ragioni sconosciute continuò lord la macchina del primo ministro ha lasciato la strada principale quella della polizia non essendosi resa conto della deviazione ha proseguito poco dopo la macchina del primo ministro è stata improvvisamente assalita da una banda di uomini mascherati l'autista quell'audace o marfi mormorò puaro pensoso l'autista colto di sorpresa ha frenato il primo ministro ha sporto il capo dal finestrino e subito c'è stato uno sparo poi un altro il primo gli ha graffiato una guancia il secondo è andato a vuoto l'autista ormai conscio del pericolo ha rimesso subito in moto la macchina disperdendo gli assalitori l'ha scampata per un pelo esclamai io con un brivido il signor mccaddam si è rifiutato di prendere sul serio la lieve ferita affermando che si trattava solo di un graffio si è fermato nel piccolo ospedale locale dove lo hanno medicato e dove naturalmente lui non ha rivelato la propria identità ha poi proseguito direttamente come in programma per Charing Cross dove lo stava aspettando un treno speciale per Dover e dopo che il capitano Daniels ha fatto un breve resoconto di quanto era accaduto alla polizia è partito per la Francia a Dover è salito a bordo del cacciatorpediniere che lo attendeva come sapete a Boulogne lo aspettava la falsa macchina perfetta nei particolari e corredata anche dalla bandiera inglese è tutto quello che avete da dirmi sì non avete omesso qualche altro particolare milord beh c'è una cosa piuttosto strana sì la macchina del primo ministro non è tornata dopo che lui è sceso a Charing Cross la polizia era ansiosa di interrogare o marfi e quindi ha avviato subito le ricerche la macchina è stata scoperta davanti a un piccolo ristorante malfamato di Soho un locale noto per essere il luogo di incontro prediletto degli agenti tedeschi e l'autista non è stato più trovato è scomparso dunque disse Poirot pensoso gli scomparsi sono due il primo ministro in Francia e o marfi a Londra guardò attentamente lord ester che ebbe un moto di esasperazione io posso solo dire monsieur Poirot che se ieri qualcuno avesse azzardato l'ipotesi che o marfi è un traditore gli avrei riso in faccia e oggi oggi non so che cosa pensare Poirot annui gravemente e guardò il suo orologio a cipolla ho carta bianca monsieur in tutto e per tutto voglio dire devo poter andare dove e come voglio perfetto c'è un treno speciale che parte da Dover tra un'ora con un altro gruppo di agenti di Scotland Yard sarete accompagnato da un militare e da un agente del CID che si terranno a vostra completa disposizione va bene? sì un'altra domanda prima che ve ne andiate signori che cosa vi ha indotti a venire da me io sono sconosciuto o oscuro in questa vostra grande Londra vi abbiamo cercato su espressa raccomandazione di una grande personalità del vostro paese con moi il mio vecchio amico il prefè Lord Esther scosse il capo qualcuno più in alto del prefè qualcuno la cui parola una volta era legge in Belgio e lo sarà di nuovo l'Inghilterra lo ha giurato la mano di Poirot si alzò rapida in un saluto melodrammatico amen ah ma il mio padrone non dimentica monsieur io Hercule Poirot vi servirò fedelmente voglia solo il cielo che si faccia in tempo ma è tutto oscuro oscuro non riesco a vedere dunque Poirot chiesi impaziente quando la porta si chiuse alle spalle dei due uomini che cosa ne pensate il mio amico era indaffarato a preparare una piccola valigia con movimenti veloci ed esperti scosse il capo con aria pensosa non so che cosa pensare il mio cervello mi ha abbandonato perché come avete detto voi rapirlo quando sarebbe bastato un colpo in testa rimuginai scusate mon ami ma non ho detto proprio questo indubbiamente a loro interessava molto di più rapirlo ma perché perché l'incertezza crea il panico questo è un motivo se il primo ministro fosse morto sarebbe una tremenda risgrazia ma la situazione si potrebbe affrontare invece così rischiamo la paralisi il primo ministro ricomparirà oppure no è morto o è vivo nessuno lo sa e finché non si saprà nulla di definitivo non si potrà fare nulla come vi ho detto l'incertezza alimenta il panico ed è questo il gioco che fanno le boss e poi se i rapitori lo nascondono da qualche parte hanno il vantaggio di poter trattare con entrambe le parti il governo tedesco di solito non è un gran pagatore ma indubbiamente in un caso come questo potrebbe essere indotto a sborsare una grossa cifra in terzo luogo i rapitori non rischiano la forca oh decisamente il rapimento è la cosa più opportuna e allora se così fosse perché prima avrebbero tentato di sparargli Poirot fece un gesto rabbioso no è proprio questo che non capisco è inspiegabile stupido hanno fatto tutti i loro piani e per di più ottimi per il rapimento eppure mettono in pericolo tutto con un'aggressione melodrammatica degna di un film e altrettanto irreale è quasi impossibile crederci credere a quella banda di uomini mascherati a poco più di 30 km da Londra forse si tratta di due attentati del tutto distinti non c'è alcun nesso azzarda io ah no sarebbe una coincidenza troppo grossa e poi chi sarebbe il traditore ci deve essere stato un traditore c'è senz'altro stato nel primo episodio ma chi Daniels o o Murphy si deve trattare di uno dei due altrimenti perché la macchina avrebbe lasciato la strada principale non possiamo supporre che il primo ministro fosse connivente con chi ha organizzato il suo assassino è stato o Murphy a fare quella deviazione di propria volontà oppure glielo ha ordinato Daniels sicuramente deve essere stato o Murphy sì perché se lo avesse fatto Daniels il primo ministro avrebbe sentito l'ordine e ne avrebbe chiesto il motivo ma in questa storia ci sono troppi perché che si contraddicono l'uno con l'altro se o Murphy è una persona onesta perché ha deviato dalla strada principale ma se fosse una persona disonesta perché avrebbe rimesso in moto la macchina quando erano stati sparati solo due colpi salvando molto probabilmente la vita del primo ministro e ancora se fosse onesto perché subito dopo essersi allontanato da Charing Cross si sarebbe recato in un noto luogo di incontro di spie tedesche mi sembra una brutta faccenda commenta io procediamo con metodo che cosa abbiamo a favore e contro questi due uomini prendiamo Murphy contro di lui il fatto che abbia lasciato la strada principale è sospetto è irlandese e viene da County Clare è scomparso in modo piuttosto singolare a favore la sua prontezza nel rimettere in moto la macchina ha salvato la vita del primo ministro è un agente di Scotland Yard e chiaramente considerato il posto che occupa è un poliziotto di fiducia ora passiamo a Daniels non c'è molto contro di lui a parte il fatto che non si sa nulla dei suoi precedenti e che per essere un buon inglese parla troppe lingue scusatemi monami ma quanto a lingue siete deplorevoli ora a suo favore abbiamo il fatto che è stato trovato imbavagliato legato e cloroformizzato il che fa pensare che potrebbe non avere nulla a che fare con questa faccenda avrebbe potuto legarsi e imbavagliarsi da solo per deviare i sospetti Poirot scosse la testa la polizia francese non commetterebbe errori del genere inoltre una volta raggiunto il suo obiettivo rapito il primo ministro non avrebbe senso che lui fosse rimasto certo i suoi complici potrebbero averlo cloroformizzato imbavagliato ma non vedo che cosa potesse sperare di ottenere con questo può essere di poca utilità per loro ormai finché non si saranno chiarite le circostanze che riguardano il rapimento del primo ministro è fatale che lui sia sorvegliato attentamente forse sperava di mettere la polizia su una falsapista e allora perché non l'ha fatto si limita a dichiarare che gli hanno premuto qualcosa sul naso e sulla bocca e che non ricorda altro non c'è nessuna falsapista sembra proprio la verità bene disse io guardando l'orologio suppongo che sia meglio avvicinarci alla stazione forse troverete altri indizi in Francia è possibile mon ami ma ne dubito e per me è ancora incredibile che il primo ministro non sia stato trovato in quella zona limitata tenerlo nascosto lì deve costituire una terribile difficoltà se non l'hanno trovato i militari e la polizia di due paesi come posso sperare di farlo io a Charing Cross ci venne incontro Doge questo è l'investigatore Barnes di Scotland Yard e questo è il maggiore Norman si terranno completamente a vostra disposizione buona fortuna è un brutto affare ma io non ho perso la speranza ora devo andare e il ministro si allontanò rapidamente a grandi passi chiacchierammo del più e del meno con il maggiore Norman al centro del gruppetto di uomini che stavano sotto la pensilina riconobbi un omino con il volto da furetto che stava parlando con un uomo alto e biondo era una vecchia conoscenza di Poirot l'ispettore Jeff ritenuto uno dei funzionari più brillanti di Scotland Yard venne verso di noi e salutò cordialmente il mio amico ho saputo che vi occupate anche voi della cosa un bel lavoro per il momento sono scomparsi con la merce ma non credo che riescano a tenerla nascosta molto a lungo i nostri stanno setacciando la Francia e anche i francesi sono persuaso che ormai sia questione di ore sei ancora vivo osservò l'investigatore alto in tono cupo Jeff fece una smorfia sì non so perché però ho la sensazione che sia senz'altro vivo Poirot a noi sì è vivo ma potrà essere ritrovato in tempo come voi neppure io credo che potrebbero tenerlo nascosto tanto a lungo il capo stazione fischiò e salimmo tutti sulla carrozza di prima classe poi lento e pigro il treno uscì dalla stazione fu un viaggio strano gli uomini di Scotland Yard si erano raggruppati e avevano aperto delle mappe della Francia settentrionale indici nervosi seguivano le linee delle strade e indicavano i villaggi ognuno aveva la propria teoria Poirot non mostrava la sua solita loquacità ma sedeva guardando davanti a sé sulla sua faccia c'era un'espressione che mi faceva pensare a quella di un bambino perplesso io chiacchierai con Norman che giudicai un uomo molto divertente all'arrivo a Dover il comportamento di Poirot mi divertì enormemente il mio piccolo amico salendo a bordo dell'imbarcazione si aggrappò disperatamente al mio braccio soffiava un vento vigoroso mon die mormorò ma è terribile coraggio Poirot esclamai ci riuscirete lo troverete ne sono sicuro ah mon ami avete frainteso la mia emozione è questo mare cattivo che mi turba il mal de mer è orribile soffrirne oh dissi io piuttosto stupito si avvertirono le prime pulsazioni dei motori e Poirot gemette chiudendo gli occhi il maggiore Norman ha una mappa della Francia settentrionale vi interessa esaminarla Poirot scosse la testa spazientito no no lasciatemi in pace amico mio vedete per pensare stomaco e cervello devono essere in armonia Lavardier ha un metodo eccellente per evitare il mal de mer si inspira poi si espira lentamente così girando la testa da sinistra a destra e contando fino a sei tra un respiro e l'altro lo lasciai alle sue fatiche ginniche e andai sul ponte mentre raggiungevamo lentamente il porto di Boulogne Poirot comparve lindo e sorridente e mi annunciò con un bisbiglio che il sistema di Lavardier aveva funzionato a meraviglia jeppe stava ancora tracciando rotte immaginarie sulla mappa socchezze la macchina è partita da Boulogne e qui hanno deviato ora secondo me devono aver trasferito il primo ministro in un'altra macchina capite? bene disse l'investigatore più alto ispezionerò i porti di mare dieci contro uno che l'hanno fatto salire a bordo di una nave jeppe scosse la testa troppo ovvio è stato subito dato l'ordine di chiudere tutti i porti quando sbarcammo stava spuntando il giorno il maggiore Norman posò una mano sul braccio di Poirot lì c'è una pattuglia militare che vi sta aspettando signore grazie monsieur ma per il momento non intendo lasciare Boulogne che cosa? no andremo in questo albergo accanto al molo e alle parole fece seguire l'azione chiese e gli fu data una stanza noi tre lo seguivamo perplessi senza capire ci lanciò un'occhiata fugace non è così che il buon investigatore dovrebbe comportarsi vero? intuisco i vostri pensieri deve essere pieno di energia deve correre di qua e di là deve prostrarsi sulla strada polverosa e cercare con la lente di ingrandimento le tracce delle ruote deve raccogliere i mozziconi di sigaretta e i fiammiferi buttati per terra questa è la vostra idea vero? i suoi occhi ci sfidavano ma io Hercule Poirot vi dico che non è così i veri indizi sono qui dentro e si batte un dito sulla fronte vedete non avrei avuto bisogno di lasciare Londra mi sarebbe bastato restarmene seduto tranquillamente a casa mia quello che importa sono le piccole cellule grigie qua dentro fanno la loro parte in segreto e in silenzio e poi io chiedo all'improvviso una mappa metto un dito su un punto e dico il primo ministro è lì e così è con metodo e logica si può fare qualunque cosa questa corsa frenetica verso la Francia è stata un errore come giocare infantilmente al rimpiattino ma ora anche se forse troppo tardi mi metterò subito al lavoro dal di dentro silenzio amici miei vi prego e per cinque lunghe ore l'umetto rimase seduto completamente immobile sbattendo le palpebre come un gatto mentre i suoi occhi lampeggiavano e diventavano sempre più verdi il funzionario di Scotland Yard era manifestamente sprezzante il maggiore Norman era annoiato e spazientito e quanto a me mi sembrava che il tempo passasse con una lentezza esasperante alla fine mi alzai e ragionsi la finestra camminando il più silenziosamente possibile quella faccenda stava diventando una farsa dentro di me ero preoccupato per il mio amico se doveva fallire preferivo che lo facesse in modo meno ridicolo guardai pigramente fuori dalla finestra la nave che faceva la traversata quotidiana stava eruttando colonne di fumo ferma lungo il molo all'improvviso sobbalzai nell'udire la voce di Poirot accanto a me mesami muoviamoci mi voltai una trasformazione straordinaria aveva avuto luogo nel mio amico i suoi occhi lampeggiavano eccitati e aveva gonfiato al massimo il torace sono stato un idiota amici miei ma finalmente ho visto la luce il maggiore Norman si diresse frettolosamente verso la porta vado a ordinare la macchina non ce n'è bisogno non la userò grazie a dio il vento è caduto volete dire che intendete andare a piedi signore no mio giovane amico non sono san pietro preferisco attraversare il mare in barca attraversare il mare si per lavorare con metodo bisogna cominciare dall'inizio e questa storia è iniziata in inghilterra quindi ritorniamo in inghilterra alle tre ci ritrovammo ancora una volta sotto la pensilina di charing cross Poirot faceva orecchie da mercante a tutte le nostre domande e continuava ad affermare che cominciare dall'inizio non era una perdita di tempo ma l'unico modo durante il viaggio aveva confabulato a bassa voce con Norman che aveva mandato una pila di telegrammi da Dover grazie ai permessi speciali di Norman riuscimmo a passare dappertutto a tempo di record a Londra ci aspettava una grossa macchina della polizia uno degli agenti in borghese porsi al mio amico un foglio di carta battuto a macchina Poirot rispose alla mia occhiata interrogativa un elenco degli ospedali che si trovano entro un certo raggio a ovest di Londra l'ho chiesto per telegramma da Dover attraversammo Londra a forte velocità ora ci trovavamo in Beth Road proseguimmo attraversando Hammersmith Cheeswick e Brentford cominciavo a capire quale fosse il nostro obiettivo passammo per Windsor e proseguimmo verso Ascot il mio cuore ebbe un balzo era ad Ascot che Daniels aveva una zia dunque stavamo cercando lui nono Murphy finalmente ci fermammo davanti al cancello di una linda villa Poirot balzò fuori dalla macchina e suonò il campanello notai che sul suo volto prima raggiante in quel momento era dipinta una smorfia di perplessità chiaramente non era soddisfatto qualcuno rispose alla scampanellata e lo fece entrare di lì a pochi attimi Poirot ricomparve e risalì in macchina scuotendo seccamente la testa le mie speranze cominciarono a morire ormai erano le quattro passate anche se avesse trovato qualche prova che incriminasse Daniels a che cosa sarebbe servito se non riusciva a estorcere a qualcuno il punto esatto della Francia in cui tenevano nascosto il primo ministro il nostro viaggio di ritorno a Londra fu interrotto a varie riprese deviamo alcune volte dalla strada principale e ci fermammo di tanto in tanto davanti a piccole costruzioni che non mi fu difficile riconoscere come case di cura Poirot vi si fermava pochi minuti ma dopo ogni sosta riacquistava sempre più la sua radiosa sicurezza vi sbigliò qualcosa a Norman e questi rispose sì se svoltate a sinistra li troverete in attesa accanto al ponte imboccammo una strada secondaria e nella luce calante intravidi una macchina che aspettava sul ciglio della strada a bordo sedevano due uomini in abiti borghesi Poirot scese e andò a parlare con loro quindi ci rimettemmo in moto diretti a nord mentre l'altra automobile ci seguiva da vicino procedemmo per un po' e divenne chiaro che il nostro obiettivo era la periferia settentrionale di Londra finalmente ci fermammo davanti alla porta principale di un edificio alto un po' arretrato rispetto alla strada Norman ed io restammo in macchina mentre Poirot e uno degli agenti si avvicinavano alla porta e suonavano il campanello aprì una linda cameriera e l'agente le parlò sono un ufficiale di polizia e ho il permesso di perquisire questa casa la ragazza fece un gridolino e una donna alta e bella di mezza età comparve nel latrio alle sue spalle chiudi la porta ma Poirot allungò velocemente un piede oltre la soglia e contemporaneamente soffiò in un fischietto subito gli altri agenti corsero verso di lui e si riversarono nella casa chiudendo la porta alle spalle Norman ed io trascorremmo cinque minuti a imprecare per la nostra forzata in attività finalmente la porta si aprì e gli agenti riemersero portando tre prigionieri una donna e due uomini la donna e uno degli uomini furono condotti verso l'altra macchina l'altro uomo fu accompagnato alla nostra da Poirot in persona io devo andare con gli altri due amico mio abbiate molta cura di questo signore non lo conoscete vero? ebbene lasciate che ve lo presenti monsieur Omarfi Omarfi lo guardai a bocca aperta mentre la macchina si rimetteva in moto non aveva le manette ai polsi ma non pensavo che avrebbe tentato rifuggire sedeva guardando davanti a sé come inebetito in ogni caso Norman ed io saremmo stati troppo per lui con mia sorpresa continuammo a viaggiare verso nord quindi non stavamo tornando a Londra ero molto perplesso d'un tratto mentre la macchina rallentava mi resi conto che eravamo vicini all'aeroporto Endon subito afferrai l'idea di Poirot si proponeva di raggiungere la Francia in aereo era un'idea divertente ma in realtà inattuabile un telegramma sarebbe stato molto più veloce il fattore tempo era essenziale Poirot doveva lasciare ad altri la gloria personale di salvare il primo ministro quando l'auto si fermò il maggiore Norman salto fuori e un agente in borghese prese il suo posto il maggiore parlò con Poirot per qualche attimo poi se ne andò con passo deciso balzai anch'io fuori dall'auto e afferrai Poirot per un braccio mi congratulo con voi vecchio mio vi hanno detto dov'è il nascondiglio ma sentite dovete telegrafare subito in Francia se ci andrete di persona arriverete troppo tardi per un attimo Poirot mi guardò con curiosità purtroppo amico mio ci sono cose che non possono essere spedite per telegramma in quel momento il maggiore Norman tornò accompagnato da un giovane ufficiale indivisa da aviatore questo è il capitano Lyle che vi accompagnerà in Francia potete partire subito copritevi bene signore disse il giovane pilota se volete posso prestarvi una giacca Poirot stava consultando il suo enorme orologio e mormorò tra sé sì c'è tempo proprio giusto in tempo quindi alzò il viso e fece un cenno compito al giovane ufficiale vi ringrazio monsieur ma non sono io il vostro passeggero è quel signore mentre parlava si scostò leggermente e una figura avanzò dall'oscurità era il secondo prigioniero maschio che era salito sull'altra macchina e quando la luce lo illuminò in volto sussultai per la sorpresa si trattava del primo ministro per l'amor del cielo raccontatemi tutto esclamai impaziente mentre Poirot Norman ed io tornavamo in macchina a Londra come diavolo sono riusciti a riportarlo di nascosto in Inghilterra non ce n'è stato bisogno rispose secco Poirot il primo ministro non ha mai lasciato l'Inghilterra è stato rapito durante il tragitto da Windsor a Londra come? spiegherò tutto il primo ministro era sulla sua macchina e il segretario era accanto a lui all'improvviso gli viene premuto sul volto un tampone al cloroformio ma chi è stato? l'astuto capitano Daniels che parla tante lingue quando vede che il primo ministro è privo di conoscenza Daniels prende il telefono e dice a Murphy di svoltare a destra cosa che l'autista fa senza il minimo sospetto pochi metri più avanti su quella strada non frequentata è ferma una grossa macchina che sembra in panne l'autista facendo a Murphy di fermarsi questi rallenta e l'altro si avvicina Daniels si sporge dal finestrino e probabilmente con l'aiuto di un anestetico istantaneo come il cloruro di etile ripete il giochetto del cloroformio pochi secondi dopo due uomini privi di sensi vengono trascinati fuori dalla macchina e trasferiti sull'altra mentre un paio di sostituti prendono il loro posto sulla prima automobile impossibile Padiu Tu non avete mai visto i numeri di varietà in cui gli attori imitano personaggi famosi con una precisione meravigliosa non c'è niente di più facile che imitare un personaggio pubblico il primo ministro inglese è molto più facile da imitare di un qualsiasi signor John Smith di Clapham quanto al sosia di Omarfi nessuno si sarebbe occupato di lui fino al momento della partenza del primo ministro avvenuta la quale l'autista si sarebbe volatilizzato da Charing Cross raggiunge il luogo di incontro con i suoi amici entra come Omarfi ed esce come una persona del tutto diversa Omarfi è scomparso lasciandosi alle spalle una ben studiata scia di sospetti ma l'uomo che impersonava il primo ministro è stato visto da tutti da nessuno che lo conoscesse privatamente e intimamente però e Daniels ha fatto in modo che fosse il meno possibile in contatto con chiunque inoltre il sosia aveva un cerotto sul volto e qualunque atteggiamento insolito poteva essere attribuito allo shock per l'attentato alla sua vita il signor McCaddam ha la gola delicata e prima di fare qualunque discorso importante risparmia la voce il più possibile l'inganno è stato facilissimo da perpetrare fino all'arrivo in Francia lì sarebbe stato inattuabile e quindi il primo ministro scompare la polizia di questo paese si affretta ad attraversare il canale e nessuno si preoccupa di esaminare tutti i particolari del primo attentato per mantenere l'illusione che l'inganno abbia avuto luogo in Francia Daniels viene imbavagliato e cloroformizzato in modo convincente e la persona che ha recitato la parte del primo ministro si libera del travestimento lui e il finto autista forse saranno arrestati come individui sospetti ma nessuno si sognerà di sospettare qual è stata la vera parte che hanno sostenuto in questo dramma e alla fine saranno rilasciati per mancanza di prove e il vero primo ministro lui e Omar sono stati portati direttamente a casa della signora Everard a Hampstead è la cosiddetta zia di Daniels in realtà si tratta di Frau Bertha Ebenthal che la polizia ricerca da un po' di tempo è un piccolo grazioso dono che le ho fatto per non parlare di Daniels ah era un piano molto astuto ma lui non aveva fatto i conti con l'astuzia di Hercule Poirot credo che il mio amico potrà essere scusato per quel momento di vanità quando avete cominciato a sospettare la verità quando ho cominciato a lavorare nel modo giusto dal di dentro non riuscivo a interpretare la storia del primo attentato ma quando ci sono riuscito e ho capito che il primo ministro era andato in Francia con un cerotto sul volto ho cominciato a capire e quando ho visitato tutti gli ospedali tra Winstor e Londra e ho appurato che quella mattina non c'era stato nessuno che corrispondesse alla descrizione di un uomo col cerotto sul viso ho avuto la certezza dopodiché per un cervello come il mio è stato un gioco da bambini il mattino successivo Poirot mi mostra un telegramma che aveva appena ricevuto non recava il luogo da cui era stato mandato e non era firmato diceva soltanto in tempo quella sera i giornali pubblicarono un resoconto della conferenza alleata dando particolare rilievo all'ovazione fatta a David McAdam il cui ispirato discorso aveva suscitato un'impressione profonda e duratura di un'impressione profonda di un'impressione profonda